Prima riunione informale della nuova giunta regionale oggi a Palazzo Silone senza approvazione di delibere e alla quale hanno partecipato anche i direttori dei vari settori della regione Abruzzo. Poi si entererà nel vivo anche perché l'opera di Marsilio non è finita. Andrà nominato il sottosegretario, ruolo che sarebbe saldamente dei forzisti con Daniele Damario, ma il presidente ha rinviato la scelta. Si mormora che la Lega, che avrebbe avuto piacere a tenere per sé questa casella, avrebbe chiesto prima un incontro. Assessori con deleghe ormai assegnate, le deleghe sono state distribuite anche ai consiglieri. New entry e punti fissi. Tiziana Magnacca è avvolto nuovo tra i componenti della giunta, così come Sant'Angelo, che prima era vicepresidente del Consiglio. Per il resto le conferme con le stesse deleghe di Imprudente, Berì come assessore tecnico, Quaglieri e D'Annuntis, che da sottosegretario passa però ad assessore, ma sostanzialmente l'argomento è lo stesso. Nonostante non sia un primo giorno di scuola vera e proprio, ma un lavoro che prosegue, per tutti l'emozione c'è. L'Abruzzo non è più una regione canaglia, giustamente, è una regione che ormai ha i conti a posto, riconfermati nel 2023. Quindi è una regione che può dare tanto, ha avuto un'apertura di spazi economici che possono permettere il finanziamento, il cofinanziamento di tanti investimenti ministeriali europei, quindi è una regione che può dare tantissimo oggi. Questa mattina in assessorato ho messo un focus sul tema dell'erogazione puntuale delle borse di studio, perché non voglio arrivare in ritardo come le consuete scadenze che andiamo sui giornali rispetto a questi temi. Proveremo a cambiare e invertire la rotta, il lavoro è stato fatto, proveremo a fare qualcosa di più. La cultura è una deleghe invece importantissima, da 26 anni l'assessore alla cultura non è della città dell'Aquila, proprio penso l'attenzione e Marzillo ha voluto riservare a questa deleghe, a questa attenzione su una persona della città dell'Aquila, proprio nel momento in cui l'Aquila è capitale italiana della cultura. Le deleghe sono le stesse, quindi si continua il lavoro iniziato, sulle infrastrutture c'è stato un grande lavoro della precedente giunta regionale, in particolare del presidente Marzillo e anche questo è stato il tema del primo intervento del presidente nella nuova legislatura, quindi accettando da lavorare abbiamo davanti a noi una scommessa per fare in modo che l'Abruzzo possa uscire definitivamente e recuperare quel gap di ritardo infrastrutturale che ha rispetto a qualche altra regione del centro nord. L'industria ha dei tavoli molto importanti di cui bisogna immediatamente essere consapevoli e immaginare insieme al presidente Marzillo come muoversi per il futuro. Farò un incontro la settimana prossima proprio focalizzato a comprendere le emergenze maggiormente sentite dagli operatori del settore del commercio e cercheremo di lavorare per loro sapendo che è vitale oramai in tutti i centri, sia quelli grandi che quelli più piccoli, una rigenerazione del tessuto normativo.